billy acchiappa paura di maria loretta giraldo con le illustrazioni di giulia orecchia edizioni libri paura acchiappata mezza passata ha detto billy ci aspettavamo qualcuna delle sue magie ma billy ha tirato fuori da una delle tasche del suo mantello solo un naso di plastica rosso niente di più devo dire che mi sentivo un po delusa ma d'improvviso il naso si è illuminato tutto ed è diventato sempre più grosso sempre più grosso alla fine era un palloncino che volava nell'aria altre paure billy guardava ancora me la paura di non essere bella non gliela volevo proprio dire ma lui sembrava leggermi nel pensiero perché ha aggiunto ci sono paure che quasi tutti i bambini hanno se impariamo a non nasconderle a raccontarle a chi ci vuole bene scopriremo che anche quelle possono tranquillamente essere acchiappate e così ascoltai tranquilla la storia che io lo sapevo stava raccontando proprio a me la bambina che aveva paura di non essere bella la bambina che aveva paura di non essere bella non si piaceva affatto non le piacevano i suoi capelli così ribelli nel colore degli occhi non le piacevano tutte le lentiggini che le punteggiava nel viso ogni volta che si guardava allo specchio la bambina che aveva paura di non essere bella avrebbe voluto essere diversa e magari assomigliare anche solo un po a tante altre bambine belle che lei conosceva così come sono non piacerò mai a nessuno pensava la bambina e rinunciava a uscire un giorno la sua mamma le passò vicino mentre lei si stava guardando allo specchio con la solitaria scontenta e le disse la rosa non cerca di diventare un lilla nella violetta vuole essere un ciclamino ogni fiore alla sua bellezza e il suo profumo solo questo ma io non sono un fiore purtroppo sospirò la bambina che aveva paura di non essere bella non aveva ancora finito di parlare che dalla finestra entrò una magnifica farfalla dimmi ma che razza di fiori di bambina vorresti essere tu le chiese la farfalla la bambina che aveva paura di non essere bella non rispose perché per lo stupore era rimasta senza parole e va bene va bene va bene va bene disse la farfalla ci penserò io per i capelli ti farò dunque vediamo bambina margherita e mentre la farfalla pronunciava queste parole la bambina sentì che i capelli le si disponevano tutti ben ordinati intorno alla testa e per il portamento vediamo un po ti farò bambina rosa e mentre la farfalla diceva così la bambina sentì che le sue braccia le sue gambe il collo diventavano flessuose slanciate come i gambi delle rose perché no aggiunse la farfalla per la carnagione sarai vediamo un po una bambina camelia e mentre diceva così dalla faccia della bambina sparirono le lentiggini a una una e le guance presero un colore delizioso e vediamo un po per gli occhi bambina fiordaliso la bambina si guardò allo specchio ma fece fatica a riconoscersi o storse il naso così sarò anche bella ma sinceramente mi preferisco come ero prima disse con aria critica ma non capisco fece la farfalla indispettita voi essere umani siete proprio tutti uguali vi lamentate sempre del vostro aspetto ma poi non vi si può cambiare nemmeno di una virgola e la fece tornare com'era la bambina che aveva paura di non essere bella rivide i suoi capelli un po spettinati le lentiggini sul naso e tutto il resto e pensò che la sua mamma avesse proprio ragione lei era un bel fiorellino fatto così punto farfalla io così come sono che fiore di bambina chiese incuriosita ma la farfalla non le rispose perché se n'era già volata altrove la bambina però non ci rimase affatto male sorrise allo specchio e uscì rosa viola o margherita si te stessa nella vita tuo il profumo tuoi i colori sia di dentro che di fuori billy ha detto la sua frase magica paura chiappata mezza passata e da una tasca del mantello è uscito un mazzo di fiori freschi e profumati poi ha dato un fiordaliso a mamma un gelsomino a piero a michele un lilla ad alice una violetta del pensiero a me ha regalato una margherita che è il mio nome ma anche il mio fiore preferito poi ha detto si è fatto tardi devo andare billy acchiappa paura si è avviato con il suo carrettino poi quando è arrivato alla porta si è fermato si è girato verso di noi e ha strizzato un occhio ricordatevi ha detto paura acchiappata mezza passata abbiamo risposto noi tutti in coro forse fu colpa del vento d'autunno che gli gonfiava il mantello e lo faceva assomigliare a una mongolfiera o forse fu colpa della mia immaginazione fatto sta che per un momento mi è sembrato che billy e il suo carrettino volassero nell'aria all'aria 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 all'aria